Il Consigliere regionale PDL Mirko Carloni accusa la Fondazione Carifano per aver sperperato tutto il suo patrimonio e punta il dito sulla gestione del Presidente Fabio Tombari. Nella gestione della Fondazione io ho mosso delle critiche perché gli investimenti hanno visto una smobilitazione del patrimonio della Fondazione verso gli acquisti di azioni di banca Marche che in qualche modo oggi non valgono più nulla e questa scelta è contestabile, provocherà dei danni sull'impieghi, sulle possibilità di intervento della Fondazione nei prossimi anni. Credo che su questa vicenda e su altre scelte che la Fondazione ha preso, rivolta più agli investimenti che non alle opere e alla solidarietà e al beneficenza come prevede lo Statuto, vada aperta una riflessione e in qualche modo chi ha responsabilità della Fondazione dopo dieci anni è bene che abbia anche la possibilità di riposarsi e lasciare il passo a qualcun altro. La Fondazione in un momento come questo deve intervenire in campo scientifico, scolastico e soprattutto nelle interventi per le aziende, per le giovani aziende, per le start-up per favorire l'apertura di nuove imprese che in qualche modo non vengono fatte. Paura in centro, cade una lastra di vetro da Palazzo Montevecchio in Piazza degli Avveduti. Un boato e momenti di paura in centro storico, questa mattina intorno alle 10. Una lastra di vetro si è staccata dalla finestra del secondo piano di Palazzo Montevecchio vicino Piazza degli Avveduti cadendo con violenza contro il suolo. Attimi di panico per un passante che stava telefonando proprio lì sotto. L'uomo non è stato colpito dai vetri solo per qualche centimetro. Danni invece per una macchina parcheggiata sotto la finestra. Il cofano è stato perforato per diversi centimetri dai vetri caduti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Pare che a rompere il vetro siano stati dei ragazzini che, mentre giocavano, hanno rotto l'infisso. Giovani e Beneficenza, torna a note solidali l'appuntamento degli studenti del liceo scientifico Torelli. Si svolgerà venerdì 7 giugno, dalle 20.45 alla Corte Malatestiana, la seconda edizione di Note Solidari, il concerto benefico promosso e realizzato dagli studenti del liceo scientifico Torelli di Fano, a cui si sono aggiunti da quest'anno anche ragazzi di altri istituti fanesi. Il simbolo della manifestazione musicale è un cuore formato dai circa 40 giovani che si esibiranno in gruppi o come solisti e che proporranno musica di vario genere, dal melodico a rock fino al rap. Gli studenti si sono impegnati da oltre tre mesi per le prove dirette dal maestro Claudio Morosi. L'ingresso è a contributo volontario e il ricavato sarà devoluto alla Mesa dei Poveri dell'Associazione San Paterniano Opera Padre Pio di Fano. Riparte la stagione estiva con le serate dell'Arzilla Beach Village. Domani ospite Ricchi Montanari. Domani iniziano i giovedì dell'Arzilla Beach Village. Lo slogan è Forever Music, Forever Party. Come l'anno scorso i nostri DJ resident saranno Peppe Primo e Enrico Mattiaci e per questo giovedì avremo come ospite nazionale Ricchi Montanari, uno dei più famosi DJ della Riviera Romagnola. La serata inizierà alle 8.30 con un buffet offerto da noi per tutti i partecipanti e per quest'estate avremo diverse novità tipo il venerdì sera in collaborazione col MOM e le vipere e domenica sera gli aperitivi live, musica in duo, acustico. Tutti gli eventi verranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo tutti e buona estate. Per oggi è tutto, i news torno domani alla stessa ora. Buona giornata! Grazie a tutti!